credo che perderemo male anzi perderò Andrea cosa ne pensi di questa crossbar si infatti vedi lui prevede il futuro quindi credo la mia previsione su 5 traverse e 0 ok secondo me i miei avversari sono molto fatti ma attento che sempre dopo non dievano l'acchie sicuramente chi vince perché quello lì è una pippa al sudo questo qui via tra di me è sempre di più e poi perché se becco una traversa vinto gli altri non le beccano ne basta una ma buon salve fortunati spettatori benvenuti in questo nuovo video diciamo qui con i fortunati spettatori oggi allora lui è l'ospite quello quello che mi dà le views perché c'è più scritto di me poi tu e perci vendono del gruppo no ci mancava un terzo e grande Andrea allora in questa crossbar challenge cosa faremo non ci metteremo un palo in culo ma prenderemo la traversa quella traversa e io sono un più scarparro che più sandali non si può invece che sono in culo della tutta lì certo io non ce l'ho allora in questa crossbar challenge avremo 5 tiri come sta mano ti ha da metto un faccio 5 tiri in questi 5 tiri dovremmo cercare di prendere la traversa io non la prenderò perché il raso terra è il mio limite prendi il sole allora vi lascio alla sfida la chiede a san gennaro sono marco fabbri e oggi prenderò la traversa e seguite lorenz 004 canale che non lascerò in la mia posizione la mia posizione solita da ronald e non prenderà la traversa vai devi far segno del cucchiaio ultima sequenza del primo tiro pesci vendolo tiro c'è sto pesce secondo tiro questa è la volta buona i famosi palentino voglio voglio proprio pesce oggi non ho ancora preso una traversa dai ragazzi intanto posso intrattenervi con questa danza ah tireremo 5 tiri a testa certo 5 tiri a testa è l'ultimo con la testa dai il bello di vedere una crossbar challenge fatta dai 13 anni è che non prenderemo mai la traversa ma voglio proprio voglio gli applausi voglio gli applausi ragazzi arriva è ah 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 Dio bello dai Lo sfogo del momento, vai Lore Eccoli qua, musica epica Musa epica Musa epica, raga Faccio un tiro alla zanzia Vai, movimento Il nostro cameraman Marco, parliamo del cameraman Gira E quando lo chiami? Oh, se la prendeva Non dire, non lo chiamo, lo chiamo la polizia E ora ti faccio uno di quei bottiagli Che ti invocco proprio la minettrina La Lazio non si infama La Lazio non il cuore Dai, mi tocca a me Hashtag Roma, hashtag Lazio Si Non sa chi vince Pio la attraverso stavolta Guarda quella buona Ma perché mi spudi sugli stili? Porta, porta, porta No, no, mo' gli faccio vedere A sto bocchiere individuo Ma l'ignoranza mi dà i cassetti oggi Marco, chi ci metti per i freddici? Lascia fare al signor montatore Lanci un bel tazzo lanci Questo tiro conta tutto per me Ma regà, per chi perde la penitenza Le partite Le partite Le ho sofferte io E questa crossbar la vico In caso non segna nessuno Puffa la maiala 130 130 Tira sto merluso Assegnate Assegnate Go Gah Gitarla Dai, oh Ragazzi ovviamente non taglieremo Fino a che non prendiamo la traversa Ci manco Eccolo Eccolo Palo La telecamera era messa al contrario Quindi quella è il palo Quindi la traversa Sì, in effetti Se mettete giusto ragazzi Purtroppo questa challenge è finita qui Non abbiamo preso un cazzo Neanche un palo in culo abbiamo preso Quindi Vi propongo una sfida Anzi, non una sfida Sapete una cosa? Stai da sbarla Continuiamo nel canale di Lorenz Bella ragazzi